bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui silvestro landia non sono in compagnia del grinta tanto per cambiare ma sono in compagnia di mio cugino bella e oggi rega giocheremo del ice and dracke è uscita la nuova espansione che però non è uscita tipo il 19 e questo qui però prima di fare il prossimo video sull'espansione facciamo proviamo a fare una zumbata io direi subito di partire ci siamo un po allenati prima allenati per modo di dire però proviamo un po a fare qualcosa di emozionante di interessante secondo me morimo come una prova è uguale stessora stessorando regala prova siamo morti round 14 non voglio qui con questi intanto aperto la mia porticina ok tutto ciò che poteva scaricarsi sarà scaricata che rimane o qui berderà esatto eccolo l'ansia palpabile attenzione che se seguiamo qua a fine ecco come prima lo so solo no mi sono chiuso ecco appunto guarda come morimo subito simone poi fa sti sti pezzi poi ragazzi bestlandia non ripete se morimo qua io non mi manco carico il video a round 3 oddio 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 che sono amuro più otto forma attivata i quadri dopo i demofavie piercuda si per forza ma sicuro in banca no 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 piercuda questo si intanto c'è un'arma assicurata non posso come ma sa questo madonna vabbè calcolate se è l'unica salvezza io sono pippa oh madonna ok ce ne sta uno qui momo lo faccio mangiare momo pappo buono 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 scalato è uno solo successo e ho capito ma io è un ciclo tecnico però mandalo qui se no non lo viene lui detta io scrivo a a a a vai muovi si ammazza di uno per uno non lo faccio ma io ho rosetta dalla testa ma si ma in due a due tutti due so compito magari è sotsumi il senso affermi ok cioè non è l'uno dietro 2 no dai è un pazzuco è un pazzuco è un cerchino ma dai certo un pieno carico adesso sarebbe il top eh si con la pistoletta aspetta questa mazzogna quick il quick l'ho fatto ha finito? ne manca uno? ah beh scendiamo scendiamo dove si scende? mi ricordo da qua oddio il salvador no qua va madonna te prego fate qualcosa non vedo niente piano carico e che ci fanno che la bomba domica? eh lo so siamo nella cacca mo ancora di più perchè è andato nell'altro round mi ha mai compreso il salvador t'ho salvato il cubo il cubo? insomma attento che c'è una miriade di gente che sta arrivando ecco infatti lasci i costi oddio no te prego oddio 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 mi t'ho salvato mori 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 aspetta che c'è sta posso volare? posso volare? jack no no scappa simu io l'uccido a cortellate sti mongoloidi mi dovrebbe arrivare tipo la cosa quella la la bomba atomica o la bomba o quella che ammazza tutti è la bomba ah no è la minican la minican si madonna mia io non sto facendo nulla sono morto ho perso il jugger ho perso tutto aspetta che forse ci riesco io sono una pippa aspetta dai che ci sei riuscito quando nessuno se l'aspettava mamma mia no 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 la bomba no non la via perchè se no alla fine oh cazzo gira gira che ha finito? si ha finito la bomba adesso presa dai andiamo a piare il coso madonna simu ma non c'ho più il jugger no che io no vabbè ma non lo vai via andiamo e andiamo a piare oddio andiamo a via no ho levato il kn lo sai che pure io prima alla prova l'ho fatto mi sono levato due volte l'armi mi sono ritrati tutte le porte e scarico prima e soltanto mi sono tolto il kn regà perchè devo sprecare la roba così no? allora il primo era questo ma quindi cambiano durante la partita cioè adesso che è un'altra partita eh no non cambiano non santi addio ma questo qua adesso mi rincoglioni l'abbiamo l'ha fatto scendi ah mi ha venito seguito ecco l'attimo ma non so voi cui il suo amico a prima di avervi non devo morire ok non sa qua si provano quello dove stai uno sa qua vedo se si apre no 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 orcozio ok ok prova questo cosa devo fare cosa devo fare niente niente allora dai quell'altro e quello sull'armatura ma non sono tostaglia oh subito al primo corpo che culo regà oddio che do ah devo andare giù nella piramide io vai giù nella piramide che stai se sblocca il pezzetto te cacca si si mo ci vado un attimo ma aspetta qua c'è sta un pezzo vedo scuro ci sono i morto oddio passano quanto costa 5 c'è bassano così mamma mia allora fai la tua io mi tengo questo non arriva eccolo mi ha posto ma che se è spuntata gente spontanea oh ma nasce adesso oh 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 che cazzo è successo ma che stai scherzando ma perchè è spuntata gente oh ma inizia l'around no oh cazzo si rega rega ma ma perchè è inizia l'around dai ma che merda dai ma se ne fa un'altra e così intanto io sei il nicolai o sei tu io le fai baffare baffi come questo vedi quando crescerà è barbaco come lui oh oh si mortaggio cosa è successo mortaggio ma io fa barbaco ma sa fa lui la barbaco ma poi non l'hai visto non si è sentito niente girato c'era proprio porco due la faccia tua si era fusa con quella ho detto dio ma che è a me di che baffi che sei fatto fiatelo famone ma al terzo round e già stanno qui è fattibile prima stavoliva il quarto quinto non no no via eccolo appunto simone mannaggia 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 perché quanto dobbiamo arrivare 40 si lancia la bomba simone e che lancia la bomba faccio scudo tuo no 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 madonna oddio 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 la tecnica uccide lì lo sdraiato eh si perché ci sono quelli che corrono mamma mia non ho fatto la cavolata di vendemmi con l'art oh adesso te la giro ora ok non ci sono oh non ci sono no vai che uccido pure il secondo no muovo ti lasciami ho mandato escono sti sti nuke bravo sono bravo eh no ok prima di uccidere lo zombie aspetta che prendi il lupo così mi prendo almeno un'anima tanta no la c'è sta il pezzo dello scudo mamma mia simone sto fa pieno carico c'è sta il pezzo dello scudo la sbrigati sbrigati lupo de me ah ah simu sembra di tosto per cui è il pezzo pezzo è andato vabbè se potremmo fare proprio scudo e stiamo messi in bere lupo è quello il problema non so dove è andato il lupo ce l'hai tu? si madonna è una santissima oh cristo vabbè io vengo da te se c'è io se oh cristo non ci sono arrivato ho notato ma malissimo sto andato devo fare? no scappa scappa via no scappa no non ti preoccupare c'è madonna mori mori questo cosa ancora sta andando già ho fatto 20 video raffa dai ma prima hai aperto il sedere prima l'ho ucciso all'istante mi sa che mi sa che non siamo buoni ok io sono vinta storica vabbè raga sta pro noi ci abbiamo provato fammo espansione la prossima volta la prossima volta no no la prossima volta la prima la seconda la terza la prossima volta vabbè proveremo a fare qualche altra cosa e vediamo un po' come andrà vi è sorta a lasciare un mi piace e un commento soprattutto di iscrivervi al nostro canale dual channel se ancora non l'avete vede non l'avete fatto ci non ci vediamo alla prossima bella 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 raga speriamo che potremo che potremo fare canale canale canale